Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Parlando del PD ha detto che insomma è ipocrisia quello che stiamo assistendo perché uno prende le distanze davvero da un modello politico-culturale oppure se no è troppo poco e da questo non arriveranno le insidie per il governo Meloni che ne ha a casa propria, ne ha in Italia da affrontare e adesso ci arriviamo. Io penso che noi dobbiamo giudicare i fatti, non le parole pronunciate anni fa in situazioni e prospettive completamente diverse. I fatti dicono che oggi Giorgia Meloni è stata qualche ora a colloquio con la Presidente dell'Europa peraltro di sinistra e hanno parlato del futuro dell'Europa Unita. Il fatto è che domani mattina Giorgia Meloni andrà in udienza da Papa Francesco che non mi sembra un pericoloso reazionario. I fatti dicono che la destra che vuole interpretare Giorgia Meloni è una destra che non ha nulla a che fare con alcune destre che vediamo in giro per il mondo. Del resto non è che si può chiedere a un leader di destra di diventare di sinistra perché qualche leader di destra o chi per lui fa delle cose sconvenienti o addirittura criminali come quella che è successa ieri in Brasile. Giorgia Meloni fa Giorgia Meloni. Giudichiamola per quello che farà e per quello che dirà da qui in avanti. E dagli alleati che si sceglie e da quello che dice o non dice. Ricomincio da te adesso Marco Travaglio. Intanto ricordare che la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen non è di sinistra perché viene da una lunga militanza del partito democristiano tedesco della CDU. Beh insomma non è una donna di destra diciamo così poi lì fare i paragoni con l'estero è un po' complicato però insomma sì ho capito l'obiezione va bene. La CDU è di sinistra? No la CDU non è di sinistra in Germania ci sono i socialdemocratici la CDU è da sempre un partito democristiano noi lo paragoniamo al partito democristiano. Quindi Grazie a tutti.